alberti spirito dietro fast di stufi passa tra via il muro il pallone si dà wakalor proprio l'ex club italia rimettere il pallone in gioco stufi giovannini poi un tentativo di fast molto difficile di stufi per di signorile per stufi insiste su questa direzione d'attacco signorile però si è messa la posizione molto molto favorevole signorile ancora la fast per federica stufi ma che partita stanno giocando anche le centrali di cui adesso si ripresenta di 9 metri ibrer karakurt diceva jasper napalai il fast per stufi che mette giù gran pallone torna sul più due novara con karakurt al servizio ancora forzare spirito tiene signorile va da stufi la fast ita chirichella va a servire ricezione in caduta poi la palla costruita in fast per stufi la ricezione buona di spirito la costruzione di signorile per l'attacco di stufi e ancora me signorile una mano addirittura super combinazione ancora con federica stufi volosch su kutrezova poi signorile ancora per stufi altro punto di federica stufi 19 e 16 prova la battuta forte volosch altro primo tempo di degraif murato e poi la rigiocano in qualche modo le ragazze delle pantere con stufi stufi la fast del 25 20 su courtney poi volosch dietro per egono murata copre in qualche modo le craif poi courtney la rigioca stufi signorile per kutrezova altro pallonetto e gono si tuffa pagherone all'indietro per decraif poi stufi ancora la fast di federica stufi sia la grafica che quella del palafenelle 15 1 a 0 chieri e frantino per proseguire al servizio si abbassa spirito per lasciare spazio a caio e crono di giovannini e poi la super fast di super stufi ho messo a segno neanche un muro ricezione di giovannini poi signorile per stufi questa volta la fast profonda che abbiamo appena detto alicea signorile per la fast di federica stufi che cerca e trova il tocco del muro signorile per la fast di federica stufi 23 a 20 allora bongersa trova il break su kuznetsova palla filo signorile sale la cava stufi chiude il discorso ristabilendo la parità 19 pari semplice la ricezione per giovannini bel cambio palla rapido ciao 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 ciao